Operazione antimafia denominata Oleandro in diverse province siciliane del sud Italia. Oltre a 120 finanziari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania impegnati nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine con un'ordinanza a carico di 26 indagati. Il giudice per le indagini preliminari del locale tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Catania a direzione distrettuale antimafia ha disposto misure cautelari, personali e reali nei confronti di 15 persone. I soggetti sono indagati a vario titolo per associazione a delinquere di stampo mafioso nonché per le condotte aggravate dal metodo mafioso di usura, estorsione, traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro nella forma del reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche. Nel corso dell'operazione sono finiti soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano di Catania. Sono state sequestrate società beni mobili e immobili, disponibilità finanziarie per oltre 12 milioni di euro.